Buongiorno, buongiorno, ben arrivati, buon martedì, vi ho provesso una novità, ce l'ho, è pronta, ce l'abbiamo fatta, ho finito così, però ci siamo, quindi direi che vi posso girare subito. Allora, finalmente è arrivata la bella stagione, finalmente le temperature sono un pochino più umane e quindi ho pensato di parlarvi, di cominciare a vedere Pasqua, Pasqua è ormai quasi alle porte, non potevano mancare i nostri bistencil a tema pasquale. Puoi usare le tempere, Natascia, per decorare le uova, puoi utilizzare la ghiaccia reale colorata con le nostre tempere alimentari, a quel punto il bistencil funziona anche sul cioccolato, ok? Quindi, vediamo il primo, mi raccomando, vi ricordo, gli stencil hanno una parte ruvida e una parte liscia, la parte ruvida va rivolta verso il basso, la parte liscia va rivolta verso l'alto. Quindi, andiamo a posizionare il nostro stencil, prendiamo la ghiaccia reale che io in questo caso ho colorato non di nero, ma, aspettate che faccio un conto veloce da che parte devo mettere la ghiaccia, ma l'ho colorata di marrone. Bene, dopodiché, teniamo ben saldo lo stencil che non si muova, appoggiamo la spatola e con la spatola a 45 gradi andiamo a passare la ghiaccia sopra. Ok, fatto questo, dolcemente andiamo ad alzare. Tadà! Non è bellissimo? Non è dolcissimo, meraviglioso, stupendo? Adesso non è finito, prendiamo l'altro stencil e facciamo ovviamente la stessa identica cosa, quindi passiamo uno, passiamo due, qua non è venuto, quindi ripassiamo. Eliminiamo l'eccesso, forse la ghiaccia era un pelino, pelino troppo liquida, ma direi che è venuto lo stesso. Guardate che carini che sono. A questo punto lasciamo due secondi il tempo alla ghiaccia reale di asciugarsi e noi possiamo andare a dipingerli. Come sempre, che cosa utilizzo? Allora, se state lavorando su cioccolato o su pasta di zucchero colorata di scuro, utilizzate indubbiamente le nostre tempere, i bee painting. Io in questo caso utilizzo il colore aerografo perché, come sapete, i colore aerografo, essendo a base alcol, asciugano immediatamente e quindi mi danno più, diciamo, sono più veloci. Siccome siamo in diretta, ovviamente la velocità è abbastanza indispensabile, quindi semplicemente non faccio altro che andare a colorare l'interno del disegno. Io ho usato un bel, a questo punto mi prendo l'arancione, sempre per aerografo in questo caso, come vi dicevo, ci prendiamo un po' di deposito perché se no, ecco qua, e andiamo a colorare il becco del nostro pulcino pasquale. Con un mix di giallo e arancione, creiamo come sempre una nuance un po' più scura e andiamo a creare delle sfumature più che altro per andare ad aumentare la tridimensionalità del nostro soggetto. Con del verde e del bianco che ero sicura di avere, eccolo qua, quindi verde. Ti piacciono, Anna Maria? Guarda, li ho appena messi sul sito, tra l'altro è valida oggi la promozione. Ci mettiamo un po' di bianco, ecco qua, e l'abbiamo un po' sfumato. Semplicissimo, semplicissimo, in due minuti abbiamo realizzato un bellissimo pulcino pasquale. Dopodiché, se dovete fare i biscotti, vediamo, perché io come sempre non sono sopra, quindi non vedo perfettamente cosa sto combinando. Direi che così ci dovremmo essere. Non fate altro che coppare. Vabbè, vabbè, potevo stare anche un pochino più in qua, però è uguale. Ah, è caduto. Eccolo qua. Guardate che carino. Potete poi sbizzarrirvi, ovviamente, con i colori. Potete andare ad attaccare la placca direttamente sull'uovo di cioccolato, potete fare appunto dei biscotti, delle torte, insomma, quello che volete. E questo è lo stencil. Per quel che riguarda, invece, il coniglietto, facciamo in un altro modo. Ci armiamo di marrone in polvere. Eccoci qua. Un pennellino adatto, che ero sicura di avere, ma come sempre, quando... Eccolo qua, direi che ci siamo. Ok. Prendiamo del marrone e cominciamo a colorare lungo i bordi, in questo modo. Ok. Queste sono tutte tecniche che, ovviamente, andremo ad affrontare insieme e in maniera chiaramente più approfondita durante il workshop della prossima settimana, quello di pittura. Quindi vi sto solo dando un assaggio. Il workshop verrà realizzato senza l'ausilio, in questo caso, è chiaro, degli stencil, perché vi insegnerò proprio a passare un qualunque disegno voi dobbiate realizzare, ok? Quindi, del rosa in polvere e... Ahia, devo girare, ok. E con il rosa andiamo a sfumare le orecchie. Andiamo un po' sulle gonciotte, in questo modo. Chiaramente non si sostituisce a voi, nel senso che le possibilità poi di personalizzazione di un lavoro fatto con lo stencil sono infinite, ecco. Quindi, così, così. Ci prendiamo un po' di viola e andiamo a creare un po' di tridimensionalità. Adesso... Ciao, Ruth, grazie, un bacio anche a te. Un besito. Ok, ci coloriamo l'ovetto, così anche lui. È bello colorato. Poi, ripeto, siete voi che scegliete come colorarli, quanto volete che escano, che siano coprenti o quant'altro, ok? A me piaceva l'idea, questo, di lasciarlo semplicemente un po'... Ciao, Monia! Un po', un po' sfumato, ok? Tagliare via un pezzo di coniglio. Ok. E questo è fatto. E, come vedete, in pochissimi, veramente pochissimi minuti, abbiamo ottenuto due bellissime decorazioni grazie all'utilizzo dei nostri, dei nostri B-Stencil. Come sempre, e vi mando un grosso bacio, vi auguro buona giornata, grazie per essere stati con noi. A domani. Baci baci. Ciao! Ciao!